E' stato pubblicato il provvedimento ricognitivo di alcune norme già previste dalle precedenti ordinanze della Regione Campania, con specifico riferimento all'uso delle mascherine e alla ripresa delle attività lavorative in presenza, smart working, nel rigoroso rispetto dei protocolli di sicurezza. Come già annunciato e stabilito nella precedente ordinanza, dal 22 giugno 2020 non è più obbligatorio ma facoltativo l'uso della mascherina all'aperto. Resta invece obbligatorio l'uso della mascherina al chiuso, mezzi pubblici, negozi, supermercati e in tutte le situazioni di assembramento o dove non vi è la possibilità di mantenere il distanziamento di almeno un metro. Nel provvedimento si affronta anche il tema dello smart working con l'indicazione di facilitare progressivamente la ripresa delle attività lavorative in presenza, sempre nel rispetto delle norme di sicurezza.